Buongiorno sorella, Dio ti benedica, come stai? Anche a te buongiorno, bene bene, e te tutto bene? Bene, grazie a Dio. Allora continuiamo oggi gli studi Apocalisse. Sì. Dopo di tempo, abbiamo fatto qualche mese fa il capitolo 14, però dopo di tempo che avevamo un po' stoppato, adesso cercheremo di finire fino alla fine con l'aiuto del Signore. L'Apocalisse 15, quindi. Sì, oggi ripartiamo al capitolo 15, che facciamo come anche gli studi precedenti, leggiamo prima il capitolo, poi lo sezioniamo. D'accordo, allora. Allora lo leggo. Vai pure, vai pure. Apocalisse 15. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si connessi, compie l'ira di Dio, e vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio, e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente. Giuste e veritiere sono le tue vie, o re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Dopo queste cose, vidi aprirsi in cielo il Tempio del Tabernacolo della Testimonianza, e i sette angeli che recavano i sette flagelli, uscirono dal Tempio. Erano vestiti di lino puro e splendente, e avevano cinture d'oro intorno al petto. Una delle quattro creature viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio, il quale vive nei secoli dei secoli. E il Tempio si riempì di fumo a causa della gloria di Dio e della sua potenza, e nessuno poteva entrare nel Tempio finché non fossero finiti i sette flagelli dei sette angeli. Ok, gloria a Dio. L'ultimo versetto dice che dal Tempio uscite il fumo e la gloria di Dio a sua potenza nessuno poteva entrare nel Tempio finché non fosse terminata i sette piaghe. Insomma, colpisce un po' questo perché hai tutta la pazienza di Dio, secoli, millenni, perché finché ci sono i figli di Dio sulla terra non può scatenare la sua ire, i suoi giudizi, d'accordo? Perché i giudizi di Dio non sono per il suo popolo, per i suoi figli, quindi Dio porta pazienza, quello che vediamo nel mondo, vulcani che esplodono, comete che passano, asteroidi che passano vicini e tutte altre cose, terremoti, sono tutti segni dei tempi, non sono giudizi di Dio come qualcuno magari può pensare. Ecco, i giudizi di Dio cominciano qua e praticamente Apocalisse parla dei giudizi di Dio che sono le sette coppe, che parte dal capitolo 15, che è un po' un capitolo di introduzione, diciamo, poi dal capitolo 16 fino al capitolo 19 sono le sette coppe dell'età di Dio, che culminerà con il giorno del Signore di cui tutta la Bibbia parla, Armageddon. Quindi nel Tempio non può entrare nessuno finché, e quindi Dio scatena un po' la sua ira, la sua giustizia. Ok, quindi allora sorella, quindi cominciamo dall'inizio. Giovanni descrive un po' come lui, come può quello, in realtà celesti, noi sappiamo che siamo limitati, ecco. Questo mare di vetro mescolato col fuoco, lo troviamo anche nella Nuova Gerusalemme, qui insomma una visione del cielo. E quindi, poi dice, c'erano quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sull'immagine sul suo marchio, è del numero del suo nome, sappiamo, è 666. E allora, come si fa a ottenere vittoria su marchio la bestia, sorella, secondo te? Sono praticamente quelli che non hanno accettato il marchio, e quindi… Brava, infatti l'Apocalisse… Sì, approvati dal Signore, ecco, per questo. Ecco, infatti l'Apocalisse 20 parla lì, i primi versetti, il versetto 4 mi sembra, dove dice che c'erano quelli là i martiri, per esempio, che non hanno adorato la bestia, non hanno preso il suo marchio, quindi insomma, poi tornare in vita, perché erano morti, no? I martiri, quindi c'era la resurrezione, e quindi regnarono con Cristo, dice, mille anni. Quindi, come si fa a vincere sulla bestia e sul suo marchio? Quindi bisogna non adorare la bestia e non ricevere il suo marchio. Quindi questo è un altro messaggio, un altro passo qua della rivelazione, che è abbastanza chiaro che, insomma, la Chiesa, per vincere sulla bestia, per non adorare il suo marchio, e prendere il suo marchio, insomma, deve attraversare la tribolazione, quindi non c'è un rapimento prima della tribolazione. Come abbiamo precedentemente, negli studi che abbiamo fatto spiegato, perché se la Chiesa viene rapita prima dalla tribolazione d'anticristo, che porta il suo marchio, allora come fa a vincere? Per vincere tu devi attraversare, e quindi devi non adorare, non piegarti, insomma, non prendere il marchio, ecco. Che da vivi o anche da martiri, perché ci saranno dei martiri pure che per non adorare il marchio, per non adorare la bestia, non prendere il marchio, verrà uccisi, no? Quelli di Apocalisse 24. E poi ci saranno quelli che vinceranno sempre, che magari non verranno uccisi, perché devono portare la testimonianza sulla terra, loro devono proseguire la loro missione che Dio gli darà, gli dà. E quindi così si otterrà la vittoria sulla bestia, non adorandola. Quindi questo è un altro versetto che indica che non c'è rapimento prima della tribolazione, perché, insomma, la Chiesa deve attraversare la tribolazione, d'accordo? Sì, 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 è chiaro questo. Poi che dice? Dice che questi qua cantavano un cantico di Mosè, il cantico dell'agnello, insomma, questi lo davano il Signore. Anche se vediamo il cantico di Mosè, in esodo bellissimo, adorazione a Dio. Tutti i cantici, no? Come salmi, sono adorazione a Dio. Siete, poi, versetto 5, ecco, soffermiamoci un attimo su questo. Sì, versetto 5. Dove dice che si aprì nel cielo un tempio, dice, vide il tabernacolo alla testimonianza. E questo è il tabernacolo, la testimonianza, sai quello che Dio dice di costruire a Mosè, no? A Mosè, sì. Ecco, perché, sai, in cielo Dio conserva le cose. Per esempio, c'è chi cerca ancora l'arca dell'Alleanza, lo sai? L'arca dell'Alleanza sta in cielo anche. Apocalisse 11-19 dice che Giovanni vide nel cielo l'arca dell'Alleanza. Quindi Dio, insomma, Dio conserva. Sì, è un po' proiettato tutto in terra, quello che c'è in cielo, quindi. Il tabernacolo. Sì, è stato praticamente, ecco, volevo soffermarmi un attimo su questo, no? Perché il tabernacolo che fece Dio, fece costruire a Mosè, insomma, ci sono diverse similitudini o parallelismi, insomma, con anche, insomma, il tabernacolo è molto simile, per esempio, al Tempio, Tempio Ebraico. E comunque è anche molto simile, ci sono delle similitudini anche con la Nuova Gerusalemme, insomma, quello che c'è nel cielo. No, basti pensare che, per esempio, il tabernacolo di Mosè, se i fratelli possono controllare, insomma, in Esodo 25, insomma, in poi, c'era, sappiamo, il luogo santo, c'era il luogo santissimo. Poi c'era questa arca con questi cherubini, no? Questi cherubini. Quindi sappiamo che nel luogo santissimo potevano entrare solo i leviti, che erano i sacerdoti. Poi, per esempio, quando ai tempi di Salomone si costruì il primo tempio, la casa del Signore, possiamo vedere questo, per esempio, in Primo Re, capitolo 6, dal versetto, anche vendita, capitolo 6, anche se lì nel tempio c'è il luogo santo, il luogo santissimo. Insomma, il luogo santissimo era dove c'era la presenza di Dio, no? E quindi poi fuori dal tempio c'era un cortile, così come anche fuori dal carta al tabernacolo c'era un cortile, poi sia nel tabernacolo che nel tempio c'erano questi cherubini. E quindi poi vediamo che, insomma, nel cielo, nelle visioni celeste che qua ha Giovanni, ma hanno avuto anche dei profeti, queste visioni come per esempio il profeta Zechiele, per esempio, parlando della Nuova Gerusalemme, ci sono questi esseri, i cherubini, no? Sì. Ci sono i cherubini, e quindi poi leggiamo in Apocalisse 21, versetto 3, no? Parla della Nuova Gerusalemme, che poi lì siamo nei nuovi cieli, nuova terra, la Nuova Gerusalemme scenderà dal cielo sulla terra, sulla nuova terra, e leggi Apocalisse 21, versetto 3, parla della Nuova Gerusalemme, no? Che scende sulla terra. Sì. Udi una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Sì. Ecco, quindi la Nuova Gerusalemme dice, è il tabernacolo di Dio con gli uomini, no, il tabernacolo che cos'è? Edo è lì nel luogo santissimo, gli amici si portavano, diciamo anche le offerte al Signore, insomma c'era la presenza del Signore, quindi non poteva entrare chiunque, no? Quindi i leviti erano i sacerdoti che si occupavano di tutto il colto, e poi insomma per entrare dovevi fare una serie di cose, sai, purificazione, capito? Queste sono tutte cose che, come spiega l'Apostolo Paolo bene nel capitolo degli ebrei, no? Dice, sono cose di realtà, di cose celesti, no? Perché questo tabernacolo di cherubini è in cielo, che c'è il tabernacolo celeste con questi cherubini, dice, c'è il trono di Dio con questi, capisce, il suo tabernacolo Mosè era il sacerdote, però in cielo è Gesù, il suo sacerdote, capito? Quindi queste sono tutte realtà, sono tutte costruzioni che Dio comandava di fare, come il tabernacolo e il tempio, ripetiamo, perché erano cose che ci sono nel cielo, no? Ecco, infatti Ebrei 8, versetto 5, per le leggi del 2 secondi. Ebrei 8, versetto 5? Leggi dall'1 al 5, così è più completo. Ebrei 8, ok. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo, abbiamo un somo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della Maestà nei Cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore, e non un uomo, ha eretto. Infatti, ogni somo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, è perciò necessario che anche questo somo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che rappresentazione e ombra delle cose celesti, come fu detto da Dio a Mosè, quando questi stava per costruire il tabernacolo. Guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ecco, da Vido, quindi ombra di cose celesti, come abbiamo spiegato, il tabernacolo, il tempio. Vai anche a capitolo 9, capitolo dopo. Capitolo 9? Sì. Quindi continuo a parlare di questo discorso. Se da versetto 1 vai fino al 10. Va bene. Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti fu preparato un primo tabernacolo, nel quale si trovavano il candeliere, la tavola, i panni della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'era un vaso d'oro contenente la manna, e la verga di Aaron, che era fiorita, e le tavole del patto. E sorpa l'arca c'erano i cherubini della gloria, che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Questa dunque è la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto, ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno, non senza sangue, che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata, finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questo è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti, secondo quel sistema, non possono, quanto la coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni. Insomma, di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Quindi, capisci, è da tutta una preparazione, capisci, è da tutta una preparazione, come anche la legge, insomma, è da tutta una cosa, finché non fosse stata rivelata la fede, insomma le realtà celeste, ecco. Quindi la via al santuario, quindi la via per andare in cielo, insomma, senza Gesù, queste prescrizioni della legge, non è che potevano, capisci, salvati. Era tutta una preparazione, anche per la fede, per Gesù che sarebbe venuto, la salvezza di Dio, che è questa che ci fa entrare nel santuario di Dio, che cos'è? Il suo regno, capisci, la nuova Gerusalemme, dove tutti questi simboli qua, i tabernacoli, i cherubini. Poi anche, sai, c'era un, fece fare anche nel primo tabernacolo, ma anche nel del tempio, o con, specialmente nel tempio di Salomone, fece fare una specie di mare fatto da metallo fuso, no? Una specie di rame metallo, insomma, fuso, che simboleggia un po' anche, come devo dire, il mare di vetro che c'è in cielo, no? Quindi, sono tutti simboli di realtà di cose celesti, e quindi dove c'era un sacerdote che faceva dei sacrifici, che però poi, insomma, Gesù è il sommo sacerdote del tabernacolo del cielo, attraverso di Lui, noi possiamo, capisci, nel tempio tu per entrare dovevi purificarti, dovevi prima di fare delle preparazioni, adesso noi attraverso Cristo veniamo purificati dai nostri peccati, capisci? Quindi non dobbiamo più fare dei sacrifici ai nostri peccati, ma Gesù è stato Lui il propiziatorio, no? Cioè, colui che ha pagato quei nostri peccati, attraverso di Lui, noi possiamo entrare nel luogo santissimo, cioè il Regno di Dio, d'accordo l'Amano a Gerusalemme, e quindi i Leviti erano i sacerdoti, come dicevo all'inizio, e quindi i cristiani, primo Pietro 5, 9, dice che i cristiani sono tutti sacerdoti o regali, sono tutti sacerdoti, cioè, diciamo, gli Eviti nello spirito, no? Sì. E... Poi vai all'Apocalisse 22. Apocalisse 22. Sì, i Leviti, il versetto 3, i Leviti erano a servizio, per il luogo santissimo, quindi dove c'era la presenza di Dio, che dice Apocalisse 22, versetto 3, parla sempre del Nuno Gerusalemme. Allora dice, non ci sarà più nulla di maledetto, nella città vi sarà il trono di Dio dell'Agnello, i suoi servi lo serviranno. Fino al 4? Sì, vedranno la sua faccia, e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Ecco, capito, sai, i suoi servi lo serviranno, chi sono? Sappiamo che la Nuova Gerusalemme, dice, Apocalisse 22, possono entrare soltanto quelli che sono scritti nel Libro della Vita dell'Agnello, quindi chi sono questi? I cristiani, i redenti, salvati. E quindi vedi che dice, vedranno la sua faccia, se nessuno può vedere Dio, e rimanere in vita, nessuno ha mai visto Dio, perché in una forma umana, noi, capito, il nostro corpo è il peccato, cioè il peccato, Dio è santo, il peccato non può resistere davanti a Lui, per questo noi possiamo vedere Dio. Dio disse a Mosè, non puoi vedermi e rimanere in vita, non puoi vedere la mia faccia e rimanere in vita. Ecco qua, dice, i suoi servi, la Nuova Gerusalemme vedranno la sua faccia. Perché? Perché lì, nel cielo, sappiamo, non è che possiamo andare con questo corpo in cielo, no, ci sarà un corpo nuovo, un corpo glorificato, 1 Corinthians 15, Paolo spiega la differenza tra i corpi terrestri e i corpi celesti, quindi dice, il versetto 53, mi pare, 54, dice, è necessario che questo corpo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e che questo corpo mortale rivesta l'immortalità, quindi con il nuovo corpo, il corpo di resurrezione, quindi il corpo non col peccato, d'accordo? Sì. Quindi tu puoi andare alla presenza di Dio e vede la sua faccia, d'accordo? E dice che i suoi servi lo serviranno, qui siamo nella Nuova Gerusalemme. Quindi capito? Quindi qua, torniamo, diciamo, Apocalisse 15, quindi il tabernacolo, questo qua è il tabernacolo che Dio fece fare a Mosè, che sta conservato, come per esempio l'arca dell'alleanza, abbiamo detto prima. e quindi abbiamo fatto una piccola riflessione su queste costruzioni che Dio aveva comandato di fare, sono costruzioni di cose che sono state fatte sulla terra, ma sono cose che rappresentano realtà che esistono nel cielo, d'accordo? come abbiamo visto in Nuova Gerusalemme, i quattro cherubini che vede Ezechiela nel capitolo 1, oppure anche Giovanni li vede in Apocalisse capitolo 4, sono i cherubini che faceva fare sul tabernacolo, sono i quattro esseri là, che sono lì davanti al trono di Dio. Davanti al trono, quindi mi sono arrivati al versetto 5, quindi poi al versetto 6, lei puoi leggere, vediamo se abbiamo finito. Il versetto 6 di Apocalisse 15? Sì, e i sette angeli che recavano i sette flagelli uscirono dal tempio, erano vestiti di lino puro e splendente, e avevano cinture d'oro intorno al petto. Sì, questi sono angeli, sono sette angeli, come per esempio ci sono sette angeli che hanno sette trombe, abbiamo studiato le sette trombe, quindi le sette trombe, come abbiamo visto anche le sette coppe, non sono la stessa cosa, lo vedremo anche nei prossimi capitoli che studieremo. E poi anche questo ripetersi del numero, sempre sette, sette angeli, sette coppe, sette, è un po' come far capire la volontà di Dio, vero? Perché il sette è il numero di Dio, rappresenta, mi sembra. Vai, il sette dici, vai i proverbi, vai. Proverbi? Vai nei proverbi. Sì, che numero? Numero 9, capitolo 9, versetto 1. 9, versetto 1. Allora, proverbi 9, versetto 1. La saggezza ha fabbricato la sua casa, ha lavorato le sue colonne in numero di sette. ecco, quando diciamo che il sette è il numero di Dio, non è che stiamo facendo la numerologia, o... è che abbiamo questo sette, sette coppe, sette trombe, sette sigilli, i due sette sigilli, sette giorni della creazione, adesso mi sto dimenticandoci di qualcosa, però, sette angeli, insomma, questo sette, come hai detto tu, viene spesso rimarcato. guarda, c'è il perdono, 70 volte sette, come far vedere la natura di Dio che perdona sempre quello certo, no? Però c'è il sette, poteva dire 50 volte 5, o 10 volte 10, insomma, invece dice 70 volte 7, sì. Ecco, sai, Dio è abbastanza stupoloso sui simboli, come vediamo, abbiamo visto il tabernacolo, c'è tutta una costruzione che rappresenta, come anche il Tempio, c'è tutto, dettagli precisi che rappresenta cose celeste, Quindi Dio è abbastanza stupoloso, quindi vediamo, Proverbi 9, 1 dice che la saggezza ha fabbricato la sua casa colonna il numero di sette, cioè, Dio è più saggio di tutti, io c'è una saggezza perfetta, insomma, Dio ha la sua saggezza, non sbaglia mai, quindi dice il numero di sette, per questo diciamo che sette, un po' il numero di Dio, non perché parliamo di numerologie, cose così, no? Perché questo proverbio, capisci, un po' conferma, ecco, perché tutti questi numeri di sette, un po' secondo la saggezza di Dio, capito? Quindi un po' rappresenta la saggezza di Dio, ecco perché Dio rimarca sempre questo sette, 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 capisci? Certo. E anche nell'abbigliamento, dopo, se tu guardi, erano vestiti di vino puro e splendente e avevano la cintura d'oro intorno al petto. mi è venuto in mente che anche in Apocalisse, aspetta, all'uno, quando Giovanni vede Gesù, anche Gesù ha questa cintura d'oro. è come se fa capire l'autorità, non so, la regalità, ecco. Sì, la regalità, sicuramente. Ecco, questo volevo dire. Mi ha dato questa impressione. anche Gesù che sai, lui ha una corona, quelli che insomma saranno la sposa di Cristo oppure avranno delle corone, quindi c'è diverso corone, corone della vita, corone della gloria, quindi tutti simboli della regalità, capito? La regalità in cielo, capito? Gesù è il leone della tribù di Giuda, c'è il leone, anche se vediamo il simbolo dell'anima, il leone è un po' il re della foresta, no? Sì. Quindi sono tutte cose che... E se guardi anche le coppe dell'ira di Dio sono d'oro, pure quelle, cioè proprio per far vedere che tutto quello che... Sì, sono a Gerusalemme anche le strade sono d'oro. D'oro? Sì. Sì, Sulla terra l'oro è una cosa preziosa che il commercio, invece là le strade sono fatte d'oro, cioè per dire non è che in cielo si commercia l'oro, per capire, capito? Comunque la regalità, l'autorità di Dio, capito? In tutto l'oro c'è dappertutto. C'è dappertutto. C'è dappertutto. C'è dappertutto. Continuiamo Apocalisse 15. Quindi questi sono i sette angeli che hanno le sette coppe delle piaghe che... Ah, ho dimenticato una cosa di dire, che come dice il versetto all'inizio... Allora, aspetta, sette piaghe, il versetto 1 dove dice che c'erano questi sette angeli che avevano le ultime sette piaghe perché con esse si compie l'ira di Dio. Ecco, quindi, perché chi pensa che la tribolazione è l'ira di Dio e le sette trombe, no? E non è proprio corretto, no? perché l'ira di Dio comincia qui con queste sette coppe e l'ira di Dio comincia al capitolo 15 e quindi queste sette coppe con queste sette coppe come dice qua si compie l'ira di Dio, cioè capisci? Quindi vuol dire che le sette trombe non è l'ira di Dio perché poi vediamo che insomma un po' la tribolazione che cos'è? La parola tribolazione vuol dire persecuzione, no? Sì. Quindi chi è che ci perseguita a noi Dio? No. Chi è che perseguita i cristiani? Il diavolo, no? Quindi la tribolazione è la persecuzione del diavolo che vediamo in Apocalisse 12 quando il diavolo viene incacciato dal cielo sulla terra che ha tempo dice un angelo dal cielo dice guai a voi terra abitanti perché il diavolo è sceso su di voi con grande ira ecco è il diavolo che porta la grande tribolazione lui l'anticristo che cos'è? è praticamente lo spirito del diavolo l'anticristo diventa il diavolo incarnato capisci? e quindi quella è un po' l'ira diciamo del diavolo sui cristiani d'accordo? Perché l'ira di Dio comincia qua capitolo 15 ok? Quindi continuiamo al versetto 7 siamo arrivati lì versetto 7 uno dei quattro esseri viventi una delle quattro creatore viventi dia dei sette angeli sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio il quale vive nei secoli dei secoli il tempio si riempì di fumo a causa della gloria di Dio e della sua potenza nessuno poteva entrare nel tempio finché non fossero finiti i sette flaggelli dei sette angeli ok quindi da qui in avanti non si scherza quando comincia quando cominciano i giudizi di Dio sulla terra quindi qua il rapimento c'è già stato c'è già stato c'è già stato perché i figli di Dio come dice Giovanni qua ci sono quelli che hanno ricevuto il marchio della bestia sulla terra dici? sì in questo momento eh sì perché prima copa dopo vedremo la prima copa è proprio concentrata su quelli che hanno preso il marchio e dicevano un'ulcera maligna tutti quelli con il marchio della bestia e quindi sì ci sono sulla terra ci sono tutti quelli che vale ci sono non ci sono solo quelli maggioranza ci sono quelli che avranno seguito l'anticristo no? sì cioè poi il rapimento poi se ne sono rapiti tutti i salvati no? quelli non salvati non se ne sono rapiti è logico e però adesso guarda magari se facciamo questa riflessione si allunga lo studio però dico non tutti cioè non è che tutti quelli che saranno avanzati sono tutti marchiati cioè perché ci sarà gente per esempio mi viene in mente Israele Israele non ve l'ha rapita parlo degli ebrei perché loro vedendo Gesù che torna loro poi capiscono che Gesù era il signore che loro da duemila anni maledicono infangono il suo nome quindi piangeranno come dicono le profezie piangeranno come hanno perso un figlio quando uno perde un figlio unico farà un cordone insomma si pentiranno gli ebrei però mica vengono rapiti questi attraversano l'ira di Dio gli ebrei no? e poi si convertiranno mica prenderanno il marchio parlo di quelli convertiti ecco quindi poi sulla terra come sappiamo che inizierà dopo l'ira di Dio dopo Armageddon c'è il millennio Apocalisse 20 inizia i mille anni del regno di Cristo sulla terra ecco quindi Israele sarà la capitale del mondo quindi sulla terra ci sono le nazioni sopravvissute ecco a proposito li leggi un attimo il versetto 3 la parte aspetta no ecco versetto 4 scusami li leggi un attimo facciamo giusto questa riflessione poi chiudiamo l'assetto 4 sempre del 15 allora sempre del 15 chi non temerà o signore e chi non glorificherà il tuo nome poiché tu solo sei santo e tutte le nazioni verranno adoreranno davanti a te perché i tuoi giudizi sono stati manifestati ecco quindi ci sono queste nazioni e quando queste nazioni verranno ad adorare il Signore durante l'ira di Dio no perché durante l'ira di Dio c'è giudizio sul mondo d'accordo? ah ok ok quindi l'ira di Dio quindi vai non ho capito no no stavo riflessendo quindi giudizio sul mondo e l'ira di Dio quando studieremo noi le le cole sette coppe quelli che ricevono queste piaghe d'accordo poi bestemmeranno Dio quindi qua parla di nazioni che invece dice Giovanni le nazioni verranno ad adorarti quindi quale nazioni quindi vai un attimo allora se sei in Apocalisse vai Apocalisse 12 ci sono versetto 5 sì ed ella partorì un figlio maschio il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro e il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono ecco qua questo questo figlio maschio è Gesù no che viene rapito quindi quando Gesù ascende al cielo d'accordo quindi poi deve reggere le nazioni cioè con una verga di ferro deve governare reggere e governare quindi queste nazioni poi adoreranno Gesù questo è il millennio che succede vai Zaccaria 14 per favore dopo Armageddon non è che il mondo finisce no inizia il millennio sulla terra quindi abbiamo detto che Gerusalemme sarà la capitale ecco del mondo poi però ci sono delle nazioni ci sono delle persone che entreranno nel millennio come gli ebrei quelli che non vengono rapiti che però si convertiranno questi entrano nel millennio Giaccaria 14 qua siamo sempre nel contesto del giudizio ira di Dio no? sì aspetto basta vedere il versetto ci sei quando ci sei Dio sto arrivando aspetto perché eseguele vai tranquilla non ci siamo preparati la bimba è grande vai tranquilla se no non andavo trovi allora c'è la nuova riveduta lì l'ho trovato l'hai trovato 14 poi sì allora qua siamo nel contesto sempre direi di Dio no? quindi basta leggere insomma dall'inizio versetto 9 si capisce qui parla di nazioni che hanno fatto avranno circondato Gerusalemme insomma il signore che scende sul mondo degli olivi con il suo esercito questo è Apocalisse 19 no? qui siamo in Armageddon no? quindi poi ecco poi il signore punirà tutti quelli che avranno gli eserciti quindi sappiamo che questi saranno l'esercito dell'anticristo no? 200 milioni che circonderà Gerusalemme e farà guerra no? ecco poi a Armageddon l'ultima coppa Gesù ritorna Apocalisse 19 con la sposa di Cristo lì sul cavallo bianchi per combattere e distrugge l'anticristo e il suo esercito d'accordo? ecco questo è parallelo con il sacre a 14 quindi leggi dal dal 15 ecco dal 15 al 18 punirà anche i cavalli i cavalieri che questo cammelli questi mica verranno con i cammelli i cavalli il linguaggio dell'epoca dobbiamo adattarlo cioè i cavalli e i cammelli di oggi saranno i cararmanti eccetera quindi vai dal 15 al 18 il flagello che colpirà i cavalli i muli i cammelli gli asini e tutte le bestie che saranno in quegli accampamenti sarà simile a quell'altro flagello tutti quelli quello di prima aspetta un attimo quello che dice sopra che insomma dall'inizio del capitolo che insomma gli uomini che si scioglieranno le o gli occhi saranno bruciati tutti quindi poi continua la legge dal 16 tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re al signore degli eserciti e a celebrare la festa delle capanne ecco fermati un secondo quindi qua dopo Amaranghedon Apocalisse 20 è il millennio cioè i mille anni di Cristo che erano sulla terra d'accordo il diavolo legato nell'abisso non può sedurre la terra poi alla fine dei mille anni insomma il liberato ci sono ancora dei ribelli poi c'è il giudizio poi Apocalisse 21 inizia il nuovo vicino e il nuova terra quindi d'accordo quindi qua inizia il millennio qui no e dice le nazioni sopravvissute quindi le nazioni le persone delle nazioni sopravvissute quindi quelle che non avranno preso il marchio ok sì quindi gente che si è convertita e ok ha la possibilità entra nel millennio perché poi nel millennio come abbiamo letto prima in Apocalisse 12 5 Gesù governerà le nazioni con una verga di ferro che cos'è la verga di ferro qui vediamo che come dice l'abbiamo letto Apocalisse 15 le nazioni adoreranno il Signore quindi qua quindi qua non ci sono più la politica come oggi non è più un mondo dove tutto il mondo giace sotto il potere del maligno adesso qua nel millennio il maligno sarà legato nell'abisso dove non può sedurre la terra quindi sarà il mondo regnato da Cristo non dal diavolo ok e quindi le nazioni adoreranno il Signore però il Signore governerà con una verga di ferro perché che cos'è la verga di ferro continua a legge a versetto 17-18 sì quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re al Signore degli eserciti non cadrà pioggia su di loro se la famiglia d'Egitto non sale e non viene neppure su di lei ne cadrà sarà colpita dal flagello con cui il Signore colpirà le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne quindi capito un po' possibilmente come l'Antico Testamento se c'erano le piaghe ci sarà ancora diciamo maledizione cioè tutti quanti questi qua che entrano nel millennio avranno visto Gesù che ritorna che avrà distrutto l'Anticristo la bestia il falso profeta gli eserciti avrà liberato il mondo al mar cioè qui non c'è più scusa per non adorare il Signore non hanno più scusa quindi ecco la verga di ferro chi non adora il Signore non è che c'è la grazia la grazia c'è sempre diciamo la grazia c'è per chi si pente capisci perché c'è sempre la grazia ma per chi capisci continua ad avere il cuore duro con chi non vuole andare ad adorare il Signore capisci c'è la verga di ferro ecco tu coltiverai la terra non cade la pioggia non cresce niente capito c'è una sorta di ecco la verga di ferro capito perché non hanno più scuse di non adorare il Signore capisci quindi qua nel millennio le nazioni come dice la Giovanni l'Apocalisse 15 abbiamo letto adoreranno il Signore capisci qua dice che le nazioni sopravvissute ogni anno andranno lì a Gerusalemme non ha che fare per adorare il re dice l'eterno degli eserciti il Signore capito Gesù ok 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 si ok e quindi poi vabbè quindi abbiamo finito detto questo abbiamo finito abbiamo finito bello gloria a Dio ecco poi dal prossimo capitolo iniziano le sete facciamo poi le sedici si cominciamo con sedici di le coppe insomma sedici già ci sono diverse coppe poi insomma 17-18 è tutto dedicato alla Babilonia la madre delle sprostitute ecco e quindi 19 poi insomma Armageddon insomma la settima coppa si conclude con praticamente tre capitoli che è tutto Armageddon è praticamente la distruzione di Babilonia è Armageddon sì quindi nel capitolo 16 studieremo già le 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 aspetta che do un'occhiata ancora mi confondo mi pare che studiamo tutte le cinque coppe le sei coppe no studiamo tutte le coppe poi ecco c'è la settima coppa che è fine capitolo 16 poi continua 17-18 fino a 19 capito? sì va bene ok molto interessante abbracciamo i fratelli abbracciamo soprattutto Gesù un abbraccio sorelle un abbraccio a tutti i fratelli un abbraccio a tutti benedicaci ciao